Mi rendo conto che è difficile parlare del 25 aprile ai più giovani, perché 75 anni sono il tempo di tre generazioni. È venuta meno la maggior parte dei protagonisti e con loro è venuto meno il racconto e la forza emotiva che il racconto produceva. Ma quando viene meno la memoria diretta bisogna sostituirla con la conoscenza e allora si possono fare alcune riflessioni, soprattutto rivolte ai più giovani. La prima, se pensiamo alle vergogne di quello che è accaduto in quegli anni, 40-45, se pensiamo alla sua espressione maggiore, gli orrori dei campi di concentramento, le camera gas, i forni crematori, abbiamo l'idea e l'immagine di un orrore talmente lontano dal nostro modo di essere e di sentire, talmente inverosimile che lo releghiamo in un trapassato remoto irripetibile. Proviamo invece a domandarci dove è accaduto. Tutto quello è accaduto nella Germania degli anni 40, che aveva il più alto tasso di alfabetizzazione al mondo, dove si erano formati Bertolt Brecht, Thomas Mann, Albert Einstein, dove da due secoli si studiavano e si insegnavano i valori dell'uomo, perché da canti in poi i grandi filosofi, filologi, storici, musicisti, artisti, sono stati quasi tutti tedeschi. Eppure in quel popolo così evoluto, così istruito, così colto, un personaggio che oggi fa orrore come il caporale Hitler è arrivato al potere e ha mantenuto il potere fino alla fine facendosi seguire da 50 milioni di tedeschi che per convinzione, per indifferenza, per complicità, per viltà sono andati dietro al loro dittatore sino alla fine. La grande colpa collettiva del popolo tedesco, diceva Primo Levi, è stata il silenzio sui lager. Allora domandiamoci come è stato possibile tutto questo. Quali sono i meccanismi attraverso i quali un popolo di tedeschi in pochi anni diventa un popolo di nazisti o un popolo di italiani diventa un popolo di fascisti. E allora scopriamo che i meccanismi tremendi attraverso i quali i totalitarismi riescono a plasmare a loro immagine e somiglianza i cittadini sono degli strumenti che esistono ancora oggi e che potrebbero ancora oggi essere usati malamente. I totalitarismi si basano su tre cose. La messa fuori legge dell'opposizione, ma questo è abbastanza ovvio, la violenza contro gli oppositori. Il controllo della formazione, della scuola, l'insegnamento alle giovani generazioni perché crescano secondo un modello d'uomo predeterminato. Terzo il controllo dell'informazione, far sapere soltanto ciò che vuole si sappia e tacere tutto ciò che si vuole che non si sappia. La miscela di questi tre elementi è esplosiva, ha prodotto i grandi drammi del Novecento, il nazismo, lo stalinismo, il fascismo, i campi di concentramento, i gulag. Ma questi strumenti capite che si possono usare anche oggi e certamente non c'è all'orizzonte una deriva come quella dei forni crematori o come quella dei gulag e neanche come quella dell'olio di origine fascista. Ma gli strumenti che hanno reso possibili quelle vergogne possono essere usati oggi e produrre altre vergogne, ma comunque vergogne comunque derive. Ecco perché vale la pena continuare a parlare di quanto è accaduto. Perché l'unica difesa reale che c'è di fronte al totalitarismo e alle sue derive è la coscienza dei cittadini, la capacità di pensare con la propria testa, la capacità di dire dei no, la capacità di continuare a testimoniare qualcosa di diverso da quello che eventualmente qualcuno vuole imporre. La seconda riflessione riguarda il fatto che i tedeschi sapevano quello che accadeva. I tedeschi potevano ignorare le camera gas e i forni crematori perché venivano all'interno dei campi, ma non tutto il resto. Perché i campi non sono stati inventati per far soffrire. I campi sono stati inventati perché la Germania aveva centinaia di migliaia di maschi che facevano la guerra e aveva bisogno di sostituirli nel lavoro con centinaia di migliaia di braccia schiavizzate. Che potessero essere mantenute con qualche mestolato di brodo e dopo due o tre mesi, quando erano esaurite di forze, buttate via e sostituite con altri schiavi deportati dall'Europa conquistata. Tutte le mattine e tutte le sere, a secondo del turno, si usciva dai campi, i reggimentati, e si andava nelle città a lavorare in una fabbrica come Primo Levi a Monowitz, a sgomberare le città bombardate dalle macerie, a spostare traversine per fare nuovi tratti di binari, lavorare nelle miniere, nei campi. Ecco questa popolazione di gente con la testa rasata, con la divisa a strisce, con il numero tatuato sul braccio, cucito sul risvoltino della giacca, con i zoccoli ai piedi, smunta. Queste ombre che si muovevano scomparivano per essere sostituiti ad altre ombre, questi tedeschi lo vedevano, eppure hanno taciuto. Ecco perché quella frase di Primo Levi, la vera colpa collettiva dei popoli tedesco, è stato il silenzio sui laghi. C'è un episodio che ho sentito raccontare alcune volte da un'amica che purtroppo non c'è più, Anna Kerchi, una partigiana piemontese deportata a Ramesburg. Raffrontava che verso la fine della guerra, quando ormai il fronte era vicino a Ramesburg, i tedeschi hanno fatto evacuare il campo per poter sfruttare ancora per qualche tempo la manodopera di queste deportate. Il gruppo passava in fila per nove con due soldati che la scortavano a piedi attraverso un villaggio, inizio aprile, tanta gente fuori, anche un bambino bello con gli occhi azzurri e i capelli biondi come i bimbetti nordici. Era deportata più vicina al barciapiede per un istinto materno fa una carezza sul capo di quel bambino. Dopodiché il gruppo delle deportate avanza, il bambino ci pensa su e poi con tutta la forza che ha nelle gambe tira un calcio nella caviglia della donna che lo ha accarezzato. Ora cosa c'è di naturale in un bambino di sei anni che reagisce ad una carezza con un processo logico al termine del quale cerca di fare male a chi l'ha accarezzato? Cosa c'è di normale se non in un'atmosfera culturale dove già a quell'età ti hanno insegnato che quelle persone con la divisa strisce, i capelli rasati, gli zoccoli, sono dei nemici, sono dei pericoli, sono dei reietti, sono persone da tenere lontano e devi dipendere. Questo è il dramma dei totalitarismi perché cambiano le teste e le coscienze delle persone. La terza riflessione riguarda il rapporto tra le stragi, gli orrori e la ragione. Qualche anno fa è stato dato come traccia per l'esame di maturità una frase del pittore spagnolo Goya che dice il sonno della ragione genera mostri. Non è vero che se è sempre soltanto il sonno della ragione genera mostri. A volte la razionalità applicata alla strage. Se pensiamo al 40-45, a quello di cui abbiamo parlato finora, ai campi di concentramento, alle camere a gas, ne abbiamo una dimostrazione. Nelle camere a gas hanno lavorato dei chimici per scoprire qual era il veleno più letale e meno costoso. I fornicrematori multipli sono stati disegnati dagli ingegneri. L'ossessione geometrica di Birkenau e dei campi maggiori è frutto di urbanisti. Ma il sistema concentrazionario in sé è costruito sulla base di indagini psicologiche. Pensate a una pagina famosa di Primo Levi, l'arrivo dei deportati ad Auschwitz, la suddivisione, la selezione tra quelli destinati immediatamente all'eliminazione e quelli destinati al lavoro. Quelli destinati al lavoro portati in un capannone, dove devono fare la doccia. E un soldato dice loro di spogliarsi e di mettere gli abiti di lana da una parte, quelli di cotone dall'altra, e le scarpe a due a due allineate sotto una panca. E i deportati eseguono. Poi ne arriva un secondo che dice no, le scarpe vanno allineate a due a due, ma non sotto quella panca, sotto quell'altra al fondo del capannone a destra. E i deportati nudi prendono le loro scarpe ed espostano. Poi ne entra un terzo che non dice nulla, ma lascia la porta aperta qualche minuto perché entra il freddo a mordere la carne di quegli uomini. Poi ne entra un quarto con una ramazza, prende tutte quelle scarpe allineate e le butta fuori nella neve, mescolate. Allora, dietro questa apparente irrazionalità dei gesti, c'è in realtà una premeditazione. Fare sentire il deportato un numero, fargli capire che tutti possono fare quello che vogliono di loro, fargli sentire la nullità del suo essere, togliergli qualsiasi difesa psicologica. E questo non è figlio della irrazionalità. Questa è la ragione applicata allo sterminio, come in altri ambiti, in altri settori, in quegli stessi anni si è lavorato per costruire le bombe atomiche che hanno provocato lo sterminio di Hiroshima e Nagasaki. Ecco perché bisogna fare attenzione. Nel pensare che basti la ragione per difenderci. La ragione funziona se accanto ad essa c'è la coscienza e devono avercela tutti, anche gli scienziati più famosi e illustri. L'ultima riflessione riguarda invece la resistenza. Per molto tempo è stata raccontata come un grande sforzo militare ed era abbastanza naturale che i protagonisti riandassero a quei giorni ricordando i momenti più forti da un punto di vista emotivo, quando si sparava, si vedevano cadere i compagni e si rischiava di morire. Ma oggi sappiamo che da un punto di vista militare la resistenza non è stata fondamentale. La guerra l'hanno vinta gli inglesi americani da una parte e l'armata rossa sovietica dall'altra. L'importanza della resistenza risiede su un altro piano, che è stato sintetizzato benissimo pur non riferendosi alla resistenza partigiana da un pastore tedesco in una poesia famosa che spesso viene erroneamente attribuita a Bertolt Breck e che dice più o meno testualmente «Hanno portato via gli ebrei e non ho detto nulla perché non ero ebreo. Poi hanno portato via i comunisti e non ho detto nulla perché non ero comunista. Poi hanno portato via i sindacalisti e non ho detto nulla perché non ero un sindacalista. Poi hanno portato via me e non c'era più nessuno che potesse dire qualcosa». Ecco questa è la resistenza. Fare in modo che ci sia qualcuno che possa continuare a dire qualcosa. Questo è il loro ruolo e il significato che hanno avuto le formazioni partigiane nell'Italia dopo l'8 settembre del 1943. Ma è anche l'insegnamento che ci arriva ancora oggi e la ragione per cui ha ancora un senso parlare del 25 aprile anche se sono passati 75 anni. Perché la resistenza, il volere continuare a fare in modo che ci sia qualcuno che possa ancora dire qualcosa, il mantenere viva la fiammella delle differenze, delle idee diverse, delle libertà di pensiero. Questa nel 1943-45 i nostri genitori o i nostri nonni l'hanno dovuta tenerla viva sparando. Noi, per fortuna che viviamo in un altro contesto, possiamo e dobbiamo tenerla viva con la nostra coscienza, con la nostra libertà di pensiero, col pensare sempre a quello che stiamo facendo, con il muoverci in base alle nostre convinzioni e non semplicemente in base agli indottrinamenti che eventualmente ci vogliono essere proposti. Questo è il senso della resistenza e questo vuol dire che resistere bisogna resistere sempre, non con le armi per fortuna, ripeto, ma con la coscienza di ognuno di noi.